Ciao a tutti amici, oggi siamo qua con una nuovissima ricetta, se non l'avete fatto fatelo adesso, iscrivetevi al mio canale, la ricetta di Simone e oggi faremo una nuova video ricetta, che sono spaghetti cozze e pecorino, però gli ingredienti sono spaghetti quadrati cozze, pomodori, arugola e pecorino romano, andiamo ad assaggiare? questo pecorino io lo vedo molto meglio degli altri pecorini bravo, buono, spostiamoci con noi, ora ho messo olio e uno spicchio d'aglio, vado a mettere le cozze una è già quasi aperta e poi mettiamo i pomodori allora, ragazzi, noi nei pomodori abbiamo fatto una X ok, mettiamo il coperchio e sopra qua ci mettiamo i pomodori che ci abbiamo fatto un bellissima X e ora li lasciamo li lasciamo in acqua a sbollentare li abbiamo messi in acqua calda per 10 secondi e ora li mettiamo in acqua fredda per spillare meglio i pomodori ora sgusciamo tutte le cozze, se prendo questa, non è troppo piccata, prendiamo una grande questo sì, questo mi sembra, è chiusa ok è buona, pure io ne sguscio una a una senza mangiarmile allora, ragazzi, abbiamo sgusciato le cozze, poi, visto che il sugo era un pochino troppo ora lo mettiamo qua immaginate voi la pasta con il sugo di cozze che diventa ancora più buone e si sentono tutte le cozze che vi abbracciano mettiamo abbiamo abbiamo iniziamo l'inizio a freddo con di olio aglio olio ricordate aglio olio e pecorino? non saprò comunque ma shh senti tutti? chi è che mi chiama? ah il pomodoro che mi dice è brutta amici dentro scusa pomodoro mi sono dimenticato di te per quanto eh sarà buona la pasta mi dispiace amici ci siamo scordati del pomodoro non ci prego prendo la pasta che è 13 minuti di cottura noi invece la togliamo 3 minutini prima vediamo la rugola vediamo la rugola tutta qua eh? quanto mi causa tutto bene la mescolata diamo una mescolata alziamo una manica e prendiamo tutta la pasta wow e la finiamo di cucinare e così viene quella crema che a noi tanto piace ho scolato la pasta mettiamo su delle cacce oh girando la pasta guardate che eh ma panna 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 o panna o cioccolato scrivetemelo nei commenti per voi che cos'è? ahhh 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 il profumo della libertà come ora sta per nevitare allora ragazzi io c'è il risultato è buono mi raccomando iscrivetevi al mio canale le ricette di simone e un bacio da me da casa Celestino ci vediamo alla prossima videoricetta dai miei assistenti da me e da merwoman ciao